come esempio. No, questo però l'avevo detto anche io prima che intervenissi tu. No, e tu mi devi dare valore aggiunto, non devi essere d'accordo con me. Devi o attaccarmi o essermi un'opinione completamente diversa. No, la domanda, no, mister, mister Gatta, la domanda per te era diversa, e cioè, ed è un sondaggio che ho fatto anche con i nostri tifosi, e cioè, parto dalla valorizzazione di questa rosa, no, della Juventus, che pare, nonostante in molti possono anche non essere d'accordo, invece, sia stata valorizzata dal punto di vista della possibilità di piazzare giocatori sul mercato, soprattutto appunto i giovani. Ora, ora, tu, dirigente Juventus, tu Gatta improvvisamente dirigente Juventus, tu improvvisamente sei un Giuntoli, sei un Calvo, sei uno Scanavino, un Ferrero, no, preferiste essere un Giuntoli, secondo me, rispetto agli altri. Un Giuntoli, un Giuntoli. Vedi, ci ha azzeccato, sei un Giuntoli. Ma non per altro, perché gli altri sono più bravi in altri settori che non sono i miei di competenza. Esattamente. Solo per quello, non facciamo facili battute. Quindi, tu, Gatta Giuntoli, la doppia G, in questo momento cosa fai? Prendi Sule e me lo piazzi, prendi Oisen e me lo piazzi, prendi Ildis e me lo piazzi, porti a casa 160 Dobloni e mi compri tre centrocampisti da 50? Oppure non compri nessun centrocampista da 50 e dici, ragazzi, c'ho quattro giovani, secondo me tre sono dei fenomeni e pianifichiamo i prossimi anni con questo. Ma io sicuramente quei tre che hai detto li terrei, tutte e tre. Piuttosto sacrificherei Chiesa. Io non sono contro Chiesa, e attenzione, assolutamente, io penso che Chiesa ha messo nelle condizioni ideali, recuperato anche mentalmente, che adesso mi sembra un po' in difficoltà mentalmente, sia un giocatore che può e deve e fa la differenza, perché è stato così. Io mi ricordo anche la Juventus Chiesa prima dell'infortunio, dopo l'infortunio un po' di meno, ma comunque ci sono state delle partite dove ha fatto chiaramente la differenza. Quindi, però se tu mi dicessi in questo momento, stiamo parlando di... Ma tu scusami, sacrificheresti Chiesa a questo punto? Cioè, perché proprio abbiamo parlato dei giovani in nostro possesso e quindi io immagino nelle nostre fantasia un bel tridente con i centravanti di turno che dovrebbe essere Vlaovic e magari sulle a sinistra e il dizia a destra quindi puoi fare a meno di Chiesa oppure lo sacrificheresti visto anche le ultime apparizioni nazionali che ci stanno dicendo ragazzi, però non è solo la Juve, cioè Chiesa oramai tende a spostarsi a sinistra e a fare un po' di confusione. in questo momento secondo me come tutti gli attaccanti quando vivono un momento negativo non bisogna giudicarli cioè se pensiamo Leao ha passato due o tre mesi che sembrava veramente un giocatore inguardabile e invece ha un potenziale enorme cioè il potenziale di Chiesa è enorme quindi per me non si discute cioè si discute si può discutere come tutti Claudio però come tutti i giocatori però è del 97 va per i 27 anni nel pieno della carriera parte l'infortunio deve ritrovare fiducia in se stesso solo quello però in questo momento se la Juventus secondo me la Juventus deve comprare uno barra due centrocampisti il barra dipende da quello che farà Rabiot se rimane probabilmente basta solo un centrocampista se vai via Rabiot chiaramente ce ne vogliono due allora se per finanziare quel centrocampista devo vendere qualcuno preferisco vendere Chiesa che un giovane perché comunque stiamo parlando di due ragazzi del 2005 e un ragazzo del 2003 quindi stiamo parlando di gente che deve ancora iniziare a giocare a calcio gli si intravede un grande potenziale e quindi io ci punterei ma questo in questo ragionamento che mi hai fatto Fagioli lo collochi in grande centrocampista titolare o grande riserva io Fagioli lo venderei addirittura sì quello che è successo secondo me Fagioli fossi io giuntoli lo metterai sul mercato non 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 mi basta pentimento per carità però in questo momento in un momento in cui la Juventus ha bisogno più che mai di chiarezza e pulizia proprio perché cercano di infangarci in tutti i modi ed è dimostrato dalle carte che sono uscite da quello che è uscito cercano di in tutti i modi di infangarci in una maniera ignobile non abbiamo bisogno di chi gli dà la possibilità di infangarci io la penso così poi sarò tu dici non mettiamo il pallone sul dischetto del rigore no in questa sostanza e invece scusami visto che sei andato su Chiesa visto che sei andato su Chiesa Vlaovic Vlaovic che è un altro sull'altalena quest'anno ce lo teniamo bello stretto o visto anche il pesante ingaggio cerchiamo di metterlo sul mercato io Vlaovic lo tenerei bello stretto per un motivo molto semplice mentre i possibili sostituti di Chiesa ce li hai già in casa non vedo nella nostra rosa un sostituto di Vlaovic quindi vuol dire che dovresti riandare sul mercato e rispendere i soldi poi se loro hanno le idee particolarmente chiare sull'attaccante e quindi monetizzano da Vlaovic riescono a prendere un giocatore di quel livello pagandolo meno ben venga però comunque Vlaovic è una certezza è un giocatore che ancora forse per consacrarsi definitivamente devi evitare queste montagne russe grandi prestazioni con prestazioni meno meno importanti però stiamo parlando di un giocatore che comunque ha in doppia cifra e manca sì nonostante la stagione non brillantissima nel suo complesso ha fatto 15 gol che iniziano ad essere interessanti esatto senti in tutto questo bellissimo progetto visto che ci stiamo divertendo a fare il mercato anticipato Chiesa mi sembra che in questo momento cosa sia 4 gol no Chiesa è a dunque 6 in campionato 7 totali campionato ok pensavo di meno dico la verità no no in campionato 6 penso di non sbagliarmi non mi ricordo se mi ha segnato una Coppa Italia che mi sembra adesso lo potrò controllare siamo a metà di quelli che ha fatto Vlaovic quindi da quel punto di vista sì ho capito però Chiesa non è che faccia davanti Claudio è sempre più difficile sul mercato trovare una prima punta di livello che una punta esterna no ho capito Mister però Chiesa non è che fa il centro avanti non deve fare i gol di Vlaovic però fa la seconda punta comunque non è che fa neanche se la prima punta ne fa 15 la seconda ne fa 16 vai a vedere ne potrebbe più anche perché ne ha fatti 3 o 4 nelle prime 4 o 5 partite cioè detto con i numeri così ci può stare il problema è che se tu levi le prime 3 o 4 partite dove ha segnato quasi sempre e poi c'è stato mesi e mesi che non ha segnato no? no no è vero lui ha fatto 4 gol nelle prime 5 partite poi ha segnato a Genova col Genova e poi è tornato al gol con Napoli in campionato quindi sai nelle prime 5 partite 4 gol vuol dire che nelle altre 25 ne ha fatti 2 i numeri purtroppo da quel punto di vista sono abbastanza impietosi no ti dicevo per concludere il ragionamento visto che ci stiamo divertendo a fare il mercato anticipato ho visto un Danilo in nazionale tornare a giocare terzino ora è vero che noi ci siamo spiegati in più volte in tutte le salse del mondo che per far rendere bene Bremere tutti gli altri siamo dovuti tornare alla difesa a 3 ma ritornare a 4 è così brutto l'anno prossimo indipendentemente da chi sarà l'allenatore io penso che Danilo cioè la Juventus debba giocare a 4 e Danilo debba fare il terzino ma lo dico da sempre poi se tu magari se Danilo non può più spingere come magari spingeva una volta farai un terzino a destra un pochettino più più cauto e un terzino a sinistra più propositivo che ci può ci può stare no? Quindi un cambiaso terzino a sinistra Gentile era più più difensivo e Cabrini si sganciava di più quindi non c'è da sempre nel calcio i due terzini magari uno un pochettino più propositivo l'altro un po' di meno quindi io lo metterei terzino e io abbandonerei decisamente questa difesa a tre è una questione di ruolo è una questione di personalità Claudio è una questione di farsi dare la palla anche quando sono i momenti difficili mi ricordo sempre una frase quando Ciro Ferrara raccontava che lui era con la nazionale e in una partitella si mise anche se ormai era il secondo di Lippi e Pirlo mi chiese palla nel nazionale 2006 e Ciro non gliela passò perché era marcato e Pirlo gli andò passandogli vicino gli dice Ciro non era un consiglio dammela perché poi se anche sono marcato io so cosa fare questa facciataggine me la ricordo benissimo tornando a tempi più recenti con Licksteiner cioè la Juve del primo conte c'era Pirlo che era marcato perché io ero lì a vedere da tre giocatori e chiedeva palla a Licksteiner che guardandolo gli chiedeva ma sei sicuro e lui diceva dammela ecco sai cos'è a prescindere dalla grandezza però noi ci ricordiamo sempre il dopo dovremmo ricordarci che Pirlo arrivò alla Juventus etichettato come bollito dalla stampa di Milano ok è vero dobbiamo ricordarcelo questo Pirlo era considerato uno scarto del Milano un giocatore a fine carriera Pirlo cioè un giocatore di quel livello ti fa giocare meglio anche gli altri cioè ragazzi se Locatelli avesse di fianco Pirlo sembrerebbe un altro giocatore perché sarebbe di rottura di inserimento quando è in difficoltà dalla palla Pirlo e tutti saremmo qua a dire caspita Locatelli che giocatore e così